Il Signore ha dato a Marino l'idea di venire in questo luogo. E quando è stato detto questo, che eravamo in questo luogo qua, il mio cuore ha avuto dei pensieri. Pensate che quando andavo a scuola, lì all'asilo, noi venivamo in gita qua. Da bandito venivamo in gita qua. E mi sono ricordato, veramente, pensate che gita. Si attraversava tutto il paese, però non vedevamo l'ora di venire qua, veramente. Ma poi dopo circa vent'anni, anche quando sono stati fatti dei lavori qua, lavoravo con mio papà come manovale qua. E mi ricordo, mi ricordo che qua sotto, quando abbiamo mangiato, si iniziava verso l'una così a mangiare. Io giravo un po' e era la prima volta che vedevo i ragazzi, che c'era un seminario, che pregavano, ringraziavano il Signore. E questa cosa è sempre rimasta nel mio cuore. E dopo tanti anni, chi avrebbe mai detto di essere qua per portare la parola di Dio? A me? Gesù ci ha salvati, cari. A me? Gesù ci ha salvato, Gesù ha cambiato le cose. Una cosa che sempre mi è stata insegnata, che questo anche, anche subito all'inizio, è sempre rimasto nel mio cuore. Che è lo stesso sangue che ha lavato il mio cuore, è lo stesso sangue che ha lavato il cuore del mio fratello. Lo stesso spirito che abita nel mio cuore, è lo stesso spirito che abita nel cuore del mio fratello. Così, questo è sempre stato nel mio cuore. E ringrazio Dio, perché, cari fratelli, non è semplice quello che... Non è semplice che le chiese, che questa comunione dipende molto da noi, dipende molto da noi. Però, siamo qua questa sera, amè? Siamo qua e ringraziamo Dio. Quindi, questa parola che il Signore ha messo nel mio cuore, ancora questa sera, già, è stata detta anche dal fratello Antonio. Questa mattina, dello studio, che è veramente stato benedetto, ma è un bello studio. Tante cose non le sapevamo, io non le sapevo, ma Dio ci istruisce sempre, amè? Quindi, quando mi è stato chiesto di portare questo messaggio, ho detto, Signore, ma... Subito, come il pastore, mi ha detto, chissà, Elio, la testa ti sta girando. Ho detto, esatto, che la testa... I pensieri venivano, però, poi con calma, pregando il Signore, mentre pregavo una sola parola, il Signore mi ha dato. Una sola parola. Sapevo che era nella Bibbia questa parola che si chiama concordi, essere concordi. Questa parola, poi li leggerò il verso, significa letteralmente essere d'accordo, in conformità, in armonia di sentimenti fra due o più persone. Ho fatto una ricerca, questo verso, questa parola concordi, si trova nel Nuovo Testamento ben undici volte, nel Nuovo Testamento, e dieci volte nel Libro degli Atti. Pensate che era veramente un sentimento presente nella Chiesa degli Atti, non era soltanto, era qualcosa di reale, sentimento vero, nella Chiesa degli Atti. Però io voglio soltanto leggere questo verso qua, che si trova nel Libro degli Atti, al Capitolo 1, dal Versetto 14. Grazie, Signore, della Tua parola. Atti, Capitolo 1, dal Versetto 14. Dice qua. Tutti questi perseverarono concordi nella preghiera con le donne, con Maria, Madre di Gesù e con i fratelli di Lui. Tutti questi perseveravano concordi. Quindi era un momento di aspettativa, era un momento che stavano attendendo. Cosa era successo qua? Dopo la risurrezione di Gesù e dopo la sua ascensione, i discepoli, come aveva detto Gesù, tornarono a Gerusalemme. E qua i discepoli erano riuniti insieme, in un amore reciproco, fra di loro. Quindi, abbiamo detto stamattina, non c'era nessuna discordia, nessuna contesa, nessuna rivalità fra di loro. Anche se vi ricordate che qualche tempo prima, quando Gesù, con i discepoli e noi con Gesù, c'era stato qualcosa. Vi ricordate? I discepoli andarono da Gesù per dirgli, ma chi è fra di noi il più grande? Qui no. Qui erano tutti quanti insieme per aspettare colui che doveva essere grande in mezzo a loro. Era lo Spirito di Dio, caro. Nessuno era grande in mezzo a loro. Loro, se prima avevano avuto qualche problema fra di loro, adesso qua non più, perché adesso si guardavano gli altri e dicevano stiamo aspettando colui che dovrà essere grande in mezzo a noi. Alleluia! Questo aspettavano. E anche nel capitolo 2, anche la stessa, dice qua, tutti erano insieme, nello stesso luogo, il giorno di Pentecoste. Lo Spirito Santo è sceso su tutti e furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Anche qua non dice concordi, ma tutti quanti erano insieme, era passato un po' di tempo, però erano ancora concordi nello stesso luogo, insieme. Abbiamo citato questa mattina anche il Salmo 133, è vero che il Signore ordina la sua benedizione quando ci riuniamo, quando siamo insieme, però cari non ci dobbiamo dimenticare una cosa, che affinché la benedizione di Dio venga, noi dobbiamo creare le condizioni. Le condizioni. Dio non scende così. La colomba non scende su cuori agitati, cuori divisi. Lo Spirito Santo scende quando c'è amore, c'è unità, così come siamo noi questa mattina. Ci sono delle condizioni che noi dobbiamo creare affinché la benedizione di Dio scenda in mezzo a noi oggi. E già noi abbiamo creato le condizioni. Spero che oggi ci siano le condizioni giuste affinché lo Spirito di Dio scenda in mezzo di noi. Quindi è qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Io, cari fratelli, voi mi conoscete. È qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore e ne parlo con tremore e timore di questo. Con timore e timore. Questo è che noi ringraziamo Gesù perché Lui ci ha salvati, ci ha messo in noi il suo Spirito, ci ha battezzati con lo Spirito Santo. Altri ancora stanno cercando il battesimo dello Spirito Santo. Però, cari, non è tutto qua. Non è tutto qua. Noi pensiamo che molte volte, già, ringraziamo Dio per la salvezza, Gesù ci ha battezzato, parliamo in lingue, e molte volte pensiamo siamo arrivati. È tutto lì. Però io vi parlo con il cuore questa sera di una realtà, di una gloriosa, potente realtà. È stata detta questa mattina di un'eccellenza importante, che ha un nome prezioso, che ha sempre nel mio cuore. Oggi non si può parlare di questa cosa, almeno che Dio non ti ha dato qualcosa, non ci ha dato qualcosa. Che cos'è che c'è di più di oltre la salvezza, e ringraziamo Gesù, del battesimo dello Spirito Santo? Che cos'è questo di più? Ebbene, questo di più è l'unzione, l'unzione, l'unzione del suo Spirito. Che cos'è l'unzione? Ripeto, fratelli, io non ho la presunzione di parlarvi di queste cose, non voglio avere la presunzione. Ma l'unzione dello Spirito Santo, ho preso qua anche delle parole di un uomo di Dio, che veramente sono chiare. L'unzione dello Spirito Santo è, quando è questo, è quando una persona è ripiena di Spirito Santo, è in grado di fare cose straordinarie che a lei, che alla persona, gli sembrano del tutto normali. Quindi non fa fatica, non fa nessuna fatica, non fa nessun sforzo. Perché? Perché chi è all'opera è lo Spirito di Dio. L'unzione, ho messo qua, questo lo scritto io, l'unzione è la potenza dello Spirito Santo. L'unzione è la potenza dello Spirito Santo, che è una persona. L'unzione è la potenza dello Spirito Santo, che è una persona, che ci insegna, ci guida, ci parla, il quale io posso avere comunione. Egli è Dio. Amen. Egli è Dio. Dio onnipotente, Dio onnisciente, onnipresente, che io devo conoscere, devo accogliere nella mia vita e devo dargli il controllo e devo dargli un'arresa a Lui. Ora, questo che il Signore ha messo nel mio cuore, che l'unzione non è un argomento da spiegare, cari. L'unzione non è un argomento. Abbiamo sentito questa mattina il pastore Franco e la sua testimonianza di cosa è successo. Sappiamo bene, quando parliamo di queste cose, fratelli, non vi stiamo raccontando delle storie. Non è un argomento da spiegare, l'unzione. L'unzione non la puoi spiegare. L'unzione, io faccio fatica, io so una cosa, che quando l'unzione c'è, allora sì, sappiamo che c'è, ma so anche quante volte non è stata con me e quante volte ho agito senza l'unzione e quante volte ho agito, ho pregato, ho predicato, ho letto la Bibbia senza l'unzione. Quindi non è qualcosa da spiegare, è qualcosa di reale nel cuore. È una persona, è lo Spirito di Dio. Quindi, voi vi ricordate anche le parole di Gesù? Gesù, parlando, entrando nella sinagoga, lui disse, nel Vangelo di Luca, «Lo Spirito del Signore è sopra me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri e mi ha mandato per liberare i prigionieri, per recuperare la vista ai ciechi e per remettere alla libertà gli oppressi». Fratelli, se Gesù ne ha avuto bisogno come uomo, noi chi siamo per dire di nuovo questa unzione, cari? Allora, perché questa parola concordi? Perché questa parola? Perché, cari, quel pensiero che ha messo nel mio cuore, che non è un pensiero ma un messaggio, è che oggi, probabilmente, nella Chiesa del Signore e nelle Chiese, fra di noi, forse non tutti siamo concordi, concordi per avere questa unzione. Qualcuno può dire, ma fratello Elio, io non sono un pastore, non sono un predicatore, non sono chiamato a pregare per le persone. sei sicuro? Non è così. L'unzione, cari, qualcuno ha detto è per tutti, è vero, è per tutti, però voglio dirti una cosa. L'unzione è per tutti, ma per coloro che servono. Perché qua dice l'unzione era su Gesù per servire, per evangelizzare, abbiamo sentito, per guarire, per liberare, per annunciare. Quindi l'unzione è per tutti, ma per chi? Per coloro che servono. Per coloro che servono. Noi siamo stati chiamati a servire il Signore, a essere testimoni, testimoni. della resurrezione di Gesù Cristo. Quindi l'unzione non è un pensiero emotivo, come molti dicono. È entra in azione quando tu servi. E ho messo qua, un uomo forte sente la forza quando? Quando è che un uomo che ha la forza sente, che ha bisogno di agire? Perché un uomo forte sente mettere in atto la forza, non quando sta seduto, ma quando serve. A me? Quindi questa sera io vorrei portarvi con questi tre significati di questa parola, concordi. Ci sono tante cose, ma tre sentieri, tre buoni sentieri, che ci possono avvicinare a questa unzione. Sono tre sentieri. Sono molti sentieri, ma un po' di modo particolare questi qua che il Signore ha messo nel mio cuore. Quindi questa parola, concordi, io ho fatto una ricerca, ha tre significati. Significati, il primo significato è questo. Concordi, il primo significato è essere in accordo. E ho trovato questo esempio, forse è stato anche citato questa mattina, un esempio di un'opera musicale. Ci possono essere tanti strumenti, ci possono essere tante tonalità, tutti quanti messi insieme, in concordanza, insieme. Ma tutti quanti, voi musicisti lo sapete bene, tanti strumenti, tante tonalità, ma in un'opera, sapete tutti quanti, sono concordi, sono in accordo verso una sola direzione. Questa direzione è il Maestro. Gesù è il nostro Maestro. Lui ci ha mescolati insieme e con diverse capacità, diversi caratteri, diversi compiti, ma tutti quanti, cari, abbiamo da guardare in accordo in un'un sola direzione, verso Gesù, il Maestro, e ubbidire alla Sua parola. Amen. E ubbidire alla Sua parola. Però, cari, c'è anche questo che voglio dirvi questa sera, in accordo, in direzione, insieme, ma in accordo, in accordo verso una unica direzione, verso il Maestro, quindi vuol dire ubbidire alla Sua parola, agli Suoi insegnamenti, ubbidire a quello che Lui dice, però, cari, c'è anche un'altra parte che molte volte noi ci dimentichiamo. Dio ha dato la Chiesa, Dio ha dato la Chiesa, dei servi e dei ministri. Quindi, dobbiamo guardare a Gesù, al nostro Maestro, sottomeccesi alla Sua parola, ma abbiamo anche da essere sottomessi all'autorità che il Signore ha messo nella Chiesa. Io voglio aprire una parentesi, e non lo dico perché sono qua tanto per dire e non lo dico neanche perché è il mio pastore qua, perché Lui sa quello che sto parlando. Cari, io ringrazio Dio per il mio pastore, ringrazio Dio per il suo servo. Quando mi sono convertito, cari, questo è qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Quando il pastore predicava, insegnava e diceva delle cose, magari citava dei libri o dei versi, delle cose, io ero attirato, volevo sapere, volevo sapere di quello che Lui diceva e volevo capire quello che Lui insegnava. Ero attratto da qualcosa anche quando mi ha consigliato, quando mi ha corretto, quando mi diceva delle cose, subito, sapete, non ci fa tanto bene, ma cari, se voi volete avere questa unzione, dovete avere una grande umiltà nel vostro cuore, di ubbidire al vostro Maestro e anche ubbidire ai servi di Dio che ha messo nella Chiesa. Questo è un buon sentiero che vi porterà verso l'unzione. Amen. Questo è un sentiero, un accordo, tutti quanti insieme, un accordo a guardare in un'unica direzione che il nostro Maestro ubbidire alla Sua parola, ai Suoi insegnamenti e anche sì, quando veniamo corretti, veniamo consigliati, veniamo esortati, dobbiamo dire sì, Signore, è così. Questa è una chiave, cari, per l'unzione. Molte volte la nostra carne non vuole queste cose, ma se sono qua ancora questa sera è grazie a Gesù, ma anche grazie ai Suoi servi e al Pastore. Amen. E non voglio farlo così tanto per fare e non lo vogliamo fare, diamo gloria a Dio per il nostro Pastore. Amen. Vogliamo fare un applauso a Gesù, gloria a Gesù, cari. Ricordatevi, cari, questo è un buon sentiero verso l'unzione, cari, perché se c'è ribellione nel vostro cuore non verrà la colomba. Noi siamo in accordo tante persone verso il il Maestro, colui che dirige tutte le cose. Amen. Il secondo significato che ho trovato è questo, concordi che un accordo e il secondo significato è questo, un solo animo e una sola mente. Erano lì in accordo, ma erano lì anche una sola mente e uno solo animo in una unanimità. quindi nella Chiesa era presente anche molte volte c'erano tensioni, c'erano prove nella Chiesa, sempre è stato così, se leggete nel Libro degli Atti, ma la Chiesa ogni volta che doveva affrontare delle prove era unita insieme, erano insieme e quando dovevano affrontare delle difficoltà si trovavano insieme e nel Libro degli Atti al capitolo 4 parla della Chiesa che era riunita in preghiera e disse che essi alzarono concordi la voce a Dio, concordi la voce a Dio. Quindi non era una preghiera meccanica, non era una preghiera così tanto perché dovevano chiedere, avevano lo stesso pensiero, la stessa mente per dire Signore noi abbiamo bisogno che Tu intervieni. Infatti poi leggete le fratelle Antonio ha letto che dopo che ebbero pregato lo Spirito Santo scese e tremò ma nel loro cuore avevano lo stesso pensiero la stessa la stessa mente per chiedere e vi ricordate le parole di Gesù se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualsiasi cosa sarà loro concesso. Quindi questo anche molte volte noi siamo così bravi a dire noi vogliamo l'unzione vogliamo la potenza dello Spirito Santo ma cari non è che molte volte ce l'abbiamo soltanto qua lo abbiamo soltanto nel pensiero soltanto averlo qua servirà a poco è vero che quando loro pregavano non soltanto erano di una stessa mente di uno stesso pensiero ma erano di uno stesso cuore e loro credevano e dicevano signore se tu non intervieni qua noi saremo nei guai noi saremo nei guai quindi non basta soltanto avere uno stesso pensiero una sola mente ed è importante perché come dice nel profeta Amos se non sbaglio due uomini non camminano prima insieme se non si sono accordati come possiamo camminare con il signore se prima non ci accordiamo anche questa sera voi siete convinti questa sera siete venuti in questo luogo io vi sto portando il messaggio della parola di Dio ma siete convinti questa sera ma veramente Dio ce lo chiede siete convinti che questa sera voi potete andare a casa essere unti dallo spirito santo ma quanto siete convinti quanto avete soltanto qua nella mente o lo avete anche qua nel vostro cuore lo credete veramente che io sono qua questa sera per ungere i vostri cuori o soltanto avete un pensiero se io qua questa sera farei un sondaggio certamente tutti quanti potremmo dire sì io lo voglio e tutti quanti alzeremo la mano ma molte volte e succede che è così che molte volte abbiamo oh sì lo stesso pensiero ma qua ma forse qua no questa sera noi vogliamo pregare dopo di non soltanto avere lo stesso pensiero ma anche nel nostro cuore dire Signore io riconosco questa sera che ho un grande bisogno nel mio cuore di essere unto della potenza dello spirito santo di avere questa unzione voglio essere concorde con il mio fratello con la mia sorella che ho bisogno di questa unzione nel mio cuore siete convinti cari sì o no Dio è qui questa sera Dio è qui pronto vogliamo essere concordi concordi come lo erano i discepoli uniti insieme da aspettare da lì a poco sarebbe scesa la potenza dello spirito santo cari non dobbiamo più aspettare la discesa dello spirito santo già lui è sceso però lo vogliamo desiderare anelare cercare e chiedere in accordo questa sera amè un'altra cosa non sarò molto lungo così abbiamo tempo per pregare il terzo significato è questo concordi quindi un accordo che guardiamo al nostro maestro ubbidiendo la sua parola ai suoi insegnamenti e anche all'autorità che il Signore ha messo nella Chiesa una sola mente ma anche il terzo significato che ho trovato è questo una stessa passione una stessa passione i discepoli in quel luogo avevano passione la passione non è scesa a Pentecoste i discepoli avevano passione prima della Pentecoste ce l'avevano già prima questa passione avevano questo desiderio dopo Dio Gesù li ha riempiti dello Spirito Santo ma allora avevano questa passione nel loro cuore erano lì in aspettativa quindi non possiamo dire Signore oh col tuo Spirito metti in me passione non è giusto i discepoli avevano passione prima già lì nell'alto solaio già quando pregavano ce l'avevano prima quindi la passione per qualcosa un amore per qualcosa per qualcuno è qualcosa che voi potete dire sì fratello è vero è qualcosa che certe volte si accende e molte volte così diminuisce è vero cari che noi siamo stati molte volte mossi da certe occasioni in certi culti hanno pregato per noi e subito hanno detto Signore adesso ti servirò farò questo farò quell'altro la passione si può accendere in un culto quando qualcuno prega no per noi il pastore oppure sei così motivato emozionato si può accendere subito dici oh farò questo farò quell'altro anche a me è successo e magari il giorno dopo dopo qualche giorno quella passione va sotto terra e allora la domanda è qual è e io mi sono chiesto come faccio Signore per mantenere la mia passione come fai a mantenere la tua passione bene questo ha detto lo Spirito Santo nel mio cuore sapete cosa ha detto il mio cuore tu puoi mantenere la tua passione dipende da ciò che ti alimenti se tu fratello sorella ti alimenti delle cose della terra delle cose terrene se noi vi parlo con tutto il cuore se noi abbiamo passione per lo sport se abbiamo passione per la moda se abbiamo passione per le cose di questa terra e allora quella sarà la cosa che verrà alimentata nel nostro cuore di quello noi parleremo di quello la nostra testa sarà ma se noi abbiamo passione come abbiamo sentito questa mattina per le anime per i perduti per Gesù per l'opera di Dio per la Chiesa allora succederà qualcosa nel vostro cuore voi avrete un desiderio potente di cercare l'unzione del suo Spirito loro avevano questa passione nel loro cuore una passione che ti porta a cercare l'unzione dello Spirito Santo questa sera tu puoi chiedere a Dio Signore di che cosa puoi metterti davanti a Dio e dire Signore cos'è che sta alimentando la mia vita sono le cose di questa terra sono le cose di questo mondo oppure io ho passione per le anime per i perduti di aiutare il pastore di aiutare nella Chiesa di servirlo se questa è la tua passione allora il tuo cuore sarà toccato dallo Spirito Santo lui sarà il tuo cuore sarà incendiato dalla sua presenza e sarai molto vicino vicino perché lo Spirito Santo questa sera ti toccherà con il suo Spirito Amen una passione ho quasi finito cari quando preparavo questo messaggio non so come in che modo però Dio ha voluto così però non so come non lo so mi è venuta in mente qualcosa che avevo sentito l'anno scorso forse questa questa cosa ce l'abbiamo condivisa io e il pastore insieme mentre preparavo questo messaggio mi è venuta in mente una non soltanto in mente perché l'avevo scritta una visione che il Signore aveva dato a un fratello Vittorio Fiorese un evangelista che lui gira in Italia sapete lo conoscete sentito parlare Cristo la risposta Dio gli ha dato una visione a questo fratello io l'ho scritta questa visione l'ho fatta mia l'ho tenuta cara nel mio cuore molte volte ci penso e prego ancora per questo e certo voi dico il Signore quando il Signore e lui dice questo fratello dice questa visione che Dio gli aveva dato dice questa visione ha cambiato la percezione della Chiesa e mi ha permesso di servire il Signore in qualsiasi circostanza anche davanti a prove più difficili quella visione ha cambiato il mio cuore per sempre questa non è mia però l'ho fatta mia spero che questa sera anche voi potete prendere qualcosa da questa parola lui diceva così ascoltate bene cari mi trovavo nel dormiveglia e avevo la percezione di essere in un quartiere fatto di baracche sconnesse con tetti cadenti con pareti fatte di legno quasi marcio era un luogo desolato devastato e in quel momento sentì nel mio spirito questa è la condizione della Chiesa mi caddero le braccia disse questo fratello vedendo la stanchezza spirituale l'incredulità le contraddizioni i difetti le divisioni nella Chiesa ma improvvisamente la mia attenzione fu attirata da un rumore un vento che veniva dall'alto alzai lo sguardo e da oriente vide arrivare uno stormo di uccelli erano colombi e quando arrivavano giù in verticale mi accorsi che ognuno dietro al collo ognuno di loro aveva una fiamma lampeggiante in un certo punto questo stormo di uccelli con una fiamma colpirono le baracche ci fu un incendio io mi copri la faccia e guardavo vidi mentre guardavo vidi che l'incendio stava continuando a bruciare tutte le baracche stava bruciando tutto tutte le baracche tutto quello stava bruciando tutto ma mi accorsi che sotto quelle baracche c'erano delle meraviglie e delle meravigliose costruzioni c'erano palazzi preziosi con finestre d'avorio di argento scalini marmi rari rarissimi e rimase abbagliato e lo spirito santo mi disse quando arrivo io col fuoco divino la chiesa verrà trasformata non più paglia non più fieno non più orgoglio non più protagonismo non più umanesimo non più incredulità né più invidia né gelosia tutto sarà bruciato ed emergerà il modello della chiesa che io ho creato che gesù ha creato mediante il suo sangue e mediante la mia volontà cari questa sera io ho scritto qua cari da questo da questa sera concordi insieme non vogliamo più guardare le baracche amen non le voglio più guardare le baracche non voglio più guardare le baracche non voglio più guardare le cose ciò che sono terrene inutili senza valore non voglio più guardare ai difetti della chiesa non voglio più guardare queste cose ma vogliamo volgere lo sguardo a ciò che è eterno vogliamo volgere lo sguardo a quello che gesù ha fatto e quello che gesù potrà compiere nella chiesa vogliamo volgere lo sguardo a quello che gesù può compiere attraverso di noi nella sua opera cosa può fare gesù attraverso di noi quando lui ci ungerà e verrà col suo spirito lui ci ha chiamato a che fare a che cosa fare principalmente a predicare il vangelo e a salvare affinché i peccatori siano salvati e siano perdonati lui ci ha chiamati alleluia a portare il suo messaggio a predicare e anche ci ha chiamati a predicare e a guarire gli infermi a sanare e liberare i prigionieri è per questo che noi abbiamo bisogno di tutta l'unzione dello spirito santo fratelli cari voi che percezione avete della chiesa che cosa avete in vista della chiesa prima che gesù ritornerà alleluia certo nel cielo ci sarà nel cielo ci sarà la perfezione non ci saranno più né gelosie né invidia né nulla ma oggi cari dio ci chiama a una responsabilità a essere responsabili volete guardare ancora le baracche volete guardare ancora le cose terrene siete ancora lì piegati sulle vostre cose e molte volte abbiamo tanti problemi e ce li abbiamo da affrontare abbiamo a che fare con tante cose volete ancora guardare le cose terrene le cose che non hanno valore no dice il signore alzate lo sguardo e guardate le cose celesti che sono eterne guardate a quello che io posso fare e compiere attraverso di voi nessuno può sia esente questa sera a dire no signore io no perché non ce la faccio perché io non riesco perché sono una nullità no anche tu sei chiamato a servire anche tu sei chiamato a operare e a servire il signore nelle cose che dio ti ha chiamato e per questo hai bisogno dell'unzione e della potenza dello spirito santo quando egli verrà trasformerà tutto amen dice qua quando senti un vento un vento vi un rumore un vento è come una fiamma che si posò su ognuno di loro fratelli cari molte volte ho detto anche a Fossano io non ho mai visto un vento voi avete visto un vento che non soffia no un vento quando c'è soffia sempre e questa sera il vento soffia amen non ho mai visto una fiamma che non brucia e questa sera brucerà siete convinti questa sera con tutto il cuore vedo delle facce che non sono molte come siete convinti nel vostro cuore siamo concordi questa sera vogliamo alzarci in piedi grazie a tutti